Ciao a tutti, eccoci qui in diretta, sempre su, scusate qua, ma la regia mi... bene, questo tutto funziona. Magia Stremonia Paganesimo, come ogni giovedì, su Radio Gama 5, appunto, dalle ore 15.30 alle ore 16 e dalle 19 alle 20. Allora, ricordo due iniziative della radio, che sono importanti, che vanno sostenute, a cui bisogna contribuire, dove è possibile, come è possibile. Una è la più semplice, che è il 5x1000 Radio Gama 5, tramite Salute Ambiente, col codice fiscale da indicare nel modello apposito, nella scheda di destinazione del 5x1000, nella prima casella. Il codice fiscale è 92173660280, ed è un contributo importante per la radio. La seconda è un'iniziativa che sicuramente ormai tutti hanno ascoltato, però che è giusto insistere, insistere e insistere. Proprio perché è una tematica importante, che riguarda tutti, che la predizione in Radio Gama 5 ha lanciato, appunto, per quanto riguarda la libertà di scelta, di terapia. E questa è una cosa fondamentale che va sostenuta. Sì, pronto? Pronto? Niente la scuola... Pronto? Niente, se... Pronto? Niente. Sì, pronto? Mamma Lucco! Bene, e tu cosa sei? Come vedete, queste persone qua, sono persone che sono rimaste qui tranquille ad ascoltare, a seguire. Sono persone che intervengono. Ne abbiamo discusso. Queste persone sono dimostrazioni interessanti. In quanto io spero, sinceramente, e gli auguri di qualcun altro li ha anche fatti, che queste persone abbiano un giorno ad aver bisogno della petizione per la libertà di scelta terapeutica. Perché forse un po' di dolore, forse un po' di sofferenza, queste persone ce lo meritano. Perché ci sono persone a cui la sofferenza bisogna toglierla, o bisogna aiutarli, o sostenerli, o contribuire a che vivano meglio. E ci sono delle persone a cui va augurata, come direbbero i cristiani, la vita eterna. Ma queste in fondo non sono neanche persone. Le persone che rimangono qui ad ascoltare, poi intervengono a disturbare la radio gamma 5, lo ripeto, non sono queste che disturbano, queste che vengono qui, che ti dicono mamma Lucco o altre cose. Non sono persone, sono rumori, rumori di sottofondo, sono rumori molesti. Se non avessero un telefono che riesce a far filtrare, a coagulare, a sintetizzare la loro voce, non avrebbero voce, non hanno pensiero. Hanno solo parole che hanno sentito, che sanno che non hanno significato per loro, che non sono in grado di comprendere. Pensano di poter dire che ci sono, che sentono, che hanno una capacità di interagire o di fare qualcosa. In realtà, l'unico loro coraggio, l'unica loro forza, è quella di riuscire a pisare qualche tasto e dire qualche frase. Non sono capaci di rimanere in discussione, argomentare qualcosa, sostenere qualcosa. Qualcuno direbbe che non vanno fatti passare. Ci sono delle visioni che vanno fatti passare. Perché questa è la dimostrazione dell'ignoranza che una certa società, una certa cultura ha creato. Sei pronto? Come vedete, pensano di ridere, ma in realtà sono capaci di fare pochissime cose. Sono capaci soltanto appunto di fare gesti elementari e di gridare. Ed è appunto la dimostrazione di quanto sia importante cambiare appunto la cultura che c'è attorno. Di cambiare appunto quello che sta succedendo. Di dare una direzione diversa. Quando parliamo di coscienza, di conoscenza, quando parliamo della possibilità di fare qualcosa, di conoscere qualcosa, queste persone sono completamente segnate. Non capiranno mai niente. Non saranno mai niente perché non lo sono. Possono soltanto avere questa possibilità di manifestazione. Ma questo fatto che loro esistano è una comprova, una prova che non ce ne sarebbe neanche bisogno, della loro impossibilità di essere qualcosa, di dire qualcosa di consistente, di fare qualcosa. E noi, tanto, non ci crea problemi. Danno solo la dimostrazione di quello che potrebbero fare o non fare. Sì, pronto? Ciao, ciao, ciao. Sarà, sai, urticai dalle meduse, penso, mi sembra. Cosa? Sarà, sono stati urticati dalle meduse. No, ma questo... Sarebbe già troppo per loro. Loro il massimo che possono aver avuto è un po' di benedizione in parrocchia dove vanno regolarmente. Penso che sia anche l'acqua, sai... No, l'acqua non fa male, l'acqua benedetta fa danni. Sì, ma sono più pericolosi i bacilli che ci sono dentro l'acqua santa che trovi nelle parrocchie. Esatto. Quella è più pericolosa. Le danzare tigre puoi sempre liberartene. Sì, sì, sì. Ma in quei virus che vengono appunto coltivati... Poi fanno gli spritz, fanno gli spritz, comunque l'acqua non fanno gli spritz. E naturalmente fanno gli spritz che pensa a te cosa ne essi. Comunque i ministri saranno i feri e non so. No, no. Non sai. Ma è successo una roba... No, ma dai, non c'è. Nel senso, io sono d'accordo che ti danno una dimostrazione di cosa significa essere cristiani. Perché ci sono dei bravi cristiani. Sì, sì, ma sono forse anche mandati mio, credo, sai. Beh, d'altronde sai, un cristiano è sempre una creatura del suo Dio e se il suo Dio non li avesse creati così stupidi non potrebbero essere così, insomma. Sono mandati apposta perché sono, sai, pensare male, a volte si è fai, mandati apposta per rovinare anche le tradizioni. Beh, questi sicuramente se questi qua non vanno certo a chiamare altre radio, non vanno certo a far da altre parti. Sì, appunto, con altre radio si comportano seriamente, cioè si comportano... Ma no, no, non chiamano, non ci sono, non sarebbero neanche capaci di dire qualcosa. Sì, appunto, oppure danno ragione, li danno ragione, bravi, parlate bene, giusto così, Cristo è bravo e... Sì, sì, ma sai, purtroppo la cultura cristiana fa questi danni finché non verrà cancellata, finché non verrà messa in un museo criminale e continuerà a far danni. È stato il sterminatore che ha rovinato l'umanità, si può dire, perché da 2000 anni a sta parte, insomma, perché... Sai, diceva Prezzolini, fa dare a un prete il figlio, mi ripugna, sai, e dare a queste persone non a dire che hanno un cervello, mi ripugna a pensare cosa è il cervello, insomma, questo non è neanche il cervello. Io continuo a dire, continuo a ripetere anche tu, che i tabù non si possono toccare, i tabù non si possono toccare, i tabù non si possono toccare, eppure no, si continua a toccare, a evitare di toccare i tabù, si deve, cioè si può toccare tutto quello che circola intorno, però lì no, cioè, quello è una persona positiva, è un personaggio positivo, è un personaggio buono, è un tabù insuperabile, nel senso, sai, che il Gesù deve essere sempre salvato, nel senso che... Sì, perché anche la parola, il fonema stesso della parola, capisci, dà un'impressione di di benevolenza, no, Gesù, 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 diventa una cantilena, che in realtà è una droga, insomma, a Natale c'è, capisci, c'è, questo fa, dopo duemila anni, cosa viene fuori, viene fuori che le menti sono, le menti sono come un registratore, come un computer, come un... Sì, sì, ma infatti è proprio... è quello, sai, c'è una frase che è bella che diceva Prezzolini, dice, il prete è un padrone di coscienze, non un maestro, e mettere i figli in mano al prete significa dedicare alla parte di educatore, ciò che è naturale per un cattolico, ma per chi non è cattolico, non è naturale, capito, rinunciare alla capacità di essere di esempio, di insegnamento a qualcuno, ma d'altronde, queste sono le cose, questa è la cultura cristiana, insomma. Questa è la cultura, questa è la cultura, questa è che bisogna essere, diciamo, rendersi poveri, sì, ma quando i cristiani dicono che bisogna appunto essere poveri, bisogna essere dei mediocri, bisogna essere dei falliti per entrare nel regno dei cieli, queste persone fanno di tutto per dimostrarsi mitra e poveri di spirito per entrare nel regno dei cieli, non possono essere diversi, se vogliono essere proprio dei bravi e fedeli, devono essere dei poveri di spirito. Esatto, hanno i simboli, vediamo i loro simboli, il pastorale, il loro simbolo, il simbolo dei pesci, hanno il simbolo dei pesci, fanno delle trasmissioni per televisione, vedi il simbolo del pesce, una trasmissione del simbolo, i pesci, i pescatori di uomini, cioè è più chiaro di questo, non so, insomma, fa pecore e pesci, pescatori, ovile, pecorella smarrita, andare a trovare la pecorella, sì, il grece, il buon pastore, salvare appunto, il suo scopo della salvezza è sempre un qualcosa che rende piccolo l'uomo e distrugge una società. Esatto, l'uomo non deve essere un uomo, deve essere un animale. E' una pecora, che il buon pastore porta dove vuole, come sempre. E chi sgarra queste regole viene sgottato, come si diceva, no? Sì, sì. Ok. Bene, grazie Ivano, ciao. D'altronde, quando qualcuno sostiene che bisogna sempre essere dei mediocri, dei poveri, dispito, come dice il buon Gesù, è inutile meravigliarsi che poi le persone non siano capaci di avere una cultura, non siano capaci di entrare in contatto, di discutere delle loro idee. Devono sempre chiedere la sottomissione. D'altronde, in duemila anni di cultura cristiana, sono stati questo. E pensate soltanto alle lotte nel campo dell'astronomia. Sì, pronto? Vedete? A questo punto non sono neanche capaci di argomentare in qualche maniera, dire qualcosa, perché devono sempre ricorrere a rumori e non possono essere diversi di così. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Pronto? Sì, ciao. Sì? Sì? Sì, sei in diretta, parla. Ah, grazie. Abbassa la radio perché... Io penso comunque che anche le tue argomentazioni siano frutto di una storia. Di quale storia? Di una storia che tu fai parte. Beh, io ho una mia vita... Diversamente penso di dover rispettare le tue idee, insomma. No, le idee non vanno mai rispettate, vanno mai rispettate le persone. Penso che quello che fa Gisperleffi in rete non sia una persona acculturata. Sì, è un bravo cristiano. Guarda, io non sto argomentando di un bravo cristiano. Sì. Sto argomentando del fatto che le tue argomentazioni sono frutto, purtroppo o per fortuna, di questa cultura cattolica per cui... Assolutamente no. Ma come fai a staccarti da queste? Beh, cosa mi... Dico, io non mi stacco da nessuna cultura cattolica. Io sono... Io sono io e non sono la cultura cattolica. No, ma sei frutto di questa? No, assolutamente. Mi dispiace. Se tu ti senti frutto della cultura cattolica è una tua condizione che io posso prendere atto di questo. Ma io non sono frutto della cultura cattolica. Io sono frutto di tutta quella... Due mila anni di storia. No, assolutamente. No, no, piano. Due mila anni di storia sono due mila anni che si possono cancellare. Non ha dato nessun frutto. Anzi, è andato solo cose negative. Tutte... Se ti interrompo, scusa. Comunque, un uomo senza storia è anche un uomo senza futuro. Io non ho detto che non ho storia. Io non ho detto che... Ma se non la riconosci come valida o come... O meglio... La storia cristiana non appartiene a me. La storia è una politica positiva. A me fa bene perché dico, ok, è costruttiva. Riconosciamo gli errori. Riconosciamo quello che non va. E mi sembra... Nella cultura cristiana non c'è nulla di errore. È un errore unico. Eh, però a questo presupposto capisci che... Con cui non puoi costruire molto. Piano. Quello che voglio costruire lo stabilisco io. Tu costruisci quello che vuoi te. Non vieni a stabilire come costruisco io. Ah, io non voglio stabilire cosa vuoi costruire. Sì, cioè quando mi dici tu non puoi costruire così. Perché io non... Scusa, ma perché io non posso costruire cosa? No, perché se non riconosci la tua storia e quello da cui provieni, difficilmente poi... Ma scusa, ma tu sai da dove provengo io? Da 2.000 anni di storia o 3.000 o 4.000. Scusa, secondo te la nostra civiltà ha 2.000 anni di storia? No, ne ha molti di più probabilmente. Ero a scusa, e gli altri non contano niente? Negli altri non contano niente? Quelli che sono stati prima non contano niente? Secondo me contano parecchie anni. E' proprio quello che ti dico, quelli che sono stati prima contano parecchie anni. Cioè, io parlo prima degli ultimi 2.000 anni, contano niente? No, contano quelli prima, durante... E contiamo a noi perché costruiamo questo futuro, ma tutto questo passato sulla novena. Con gli errori che io per primo riconosco. Allora, io come uomo che appartiene a una civiltà mi rendo conto che abbiamo commesso un grande errore. Che è stato quello di non cancellare il monotismo negli ultimi 2.000 anni. Accordaci dell'errore e cerchiamo di rimediare. Non siamo esseri perfetti. Abbiamo il nostro errore. Abbiamo commesso un errore di 2.000 anni. Cerchiamo di rettificare. Io riconosco i miei errori. La gente come me, che aveva una visione del mondo diverso e che ha ricontrato con il mondo, ha tollerato che i monoteisti distruggessero tutto. Abbiamo sbagliato e rimediamo ai nostri errori. Riconosco il mio errore. E riconosco tutti quelli come me che hanno fatto questo errore di lasciare che i cristiani potessero diffondersi. E' stato un errore madornale. Scusatici, faremo di tutto per rimediare. Tutte le persone che non si sentono cristiane, tutte le persone che sanno che il monoteismo le ha contaminate, le ha rovinate, è stato un pericolo e continua ad essere un pericolo, benissimo. Tutte queste persone, al di là della visione del mondo, al di là delle convinzioni, al di là della loro religio, al di là se ce l'hanno o non ce l'hanno, si rendono conto che è arrivato un mostro terrificante, che nel caso nostro è propugnato da non essere inventato come Gesù, e cerchiamo di rimediare questo nostro errore. E di conseguenza la nostra civiltà ha detto, cavo, ci siamo beccati un bel bacillo, un bel virus, un bel danno, è come se fosse capitato un meteorite in testa, bene, cerchiamo di ricostruire dove eravamo arrivati prima. Cerchiamo di portare via le macerie, le buttiamo in discarica e ripartiamo. abbiamo sbagliato, va bene, stiamo correggendo l'errore. Va bene, le idee non vanno mai rispettate. Le idee non vanno mai rispettate. Tutti gli insulti che magari sono arrivati alle varie persone che non la pensano come te, solo perché ci sono quelli che scorreggiano in diretta, non è vero. Cosa non è vero? Almeno io non lo farò e rispetto le tue idee. Ma sbagli, le idee non vanno mai rispettate. A me sì. Le persone vanno rispettate. Altrimenti qualcuno se la potrà prendere. Ma no, perché? Chi se ne frega chi se la prende. Se un cristiano il Dio che so Gesù è un mostro ed è un criminale, se sento offeso è un problema suo, ma io non offenderò mai una persona. Io avrò il massimo rispetto delle persone, però delle idee non posso accettarle. Se tu mi dici che per salvare un uomo si deve bruciare il suo ruo e torturare, mi dispiace ma questa idea non la posso accettare e non la voglio accettare, e non te la voglio riconoscere. E farò di tutto per impedire che un cristiano porti una persona a rogo. Non rispetterò mai questa sua idea. Davvero. Ciao. Rispetto le tue idee. Ma no, sbagli. Io sì. Comunque... Ricorda che si rispettano soltanto le persone. Imparano. Le persone vanno rispettate. Le persone hanno delle idee le persone. Le persone si rispettano, le idee si possono combattere, si possono discutere, altrimenti quello politicamente corretto non potremo più discutere. Perché i cristiani cattolici insistono sul rispetto delle idee? Perché di fronte alla mostruosità della loro proposta, della loro tese, della loro volontà, dire, ma noi siamo i salvatori. E tu rispondi, ma non esiste un salvatore e non c'è bisogno della salvezza. Ma allora questo significa offendere la mia idea. Ma se tu la chiami offesa, sono disposto a offendere la tua idea. Ma io tollererò sempre una persona nella sua esistenza, nel suo modo di essere. Ma l'idea non la posso accettare. La devo combattere. La pensiamo loro in maniera diversa. Io potrò rispettare le tue idee e non condividerle. Sì, e tu rispetterai le mie idee, ma non rispetterai la persona. No, rispetterai la persona accettando le tue idee invece. Ma non devi accettare le mie idee. No, rispettando le nostre idee. Scusa, altrimenti non avrebbe neanche... Cioè, il gel solo esprimere, non dico un'idea, un'opinione, sarebbe impossibile. Cioè, proprio quello che si vuole nel cristianesimo è il silenzio. Tutti piegati, genuflessi, di fronte a un Dio e cantare i loro... Io non ho detto il silenzio, anche se magari è scomodo che tu parli contro le mie idee. Però... Perché ti è scomodo che io parli contro... Io non parlo contro le idee. Perché ti è scomodo di quello che io dico? Tu esprimi delle idee contrarie alle mie, magari. Va bene. E io invece devo rispettarle. Scusa. Nonostante che... Scusa. Perché altrimenti cos'è? La brucia tutto, no? Scusa, ma allora... Tu saresti disposto a bruciare tutto per delle idee? No, non è giusto. Però nel momento in cui ti poni in questa maniera... Perché scusa? Non crei solo questo, hai capito? Non crei... Non puoi spiegare la tua idea. Scusa, io non devo convertire qualcuno. Io dico qual è la mia visione del mondo, ma nessuno è obbligato a convertirsi. E io non dico di avere una verità. Non per imporla, hai capito? Ma io sono qui per discutere. Eh sì, ma discutere significa essere disposto a cambiare. Tu sei disposto... Piano, tu sei disposto a cambiare? Eh, se me lo stieghi, sì. Ti sei disposto a cambiare. E perché dov... Scusa, allora... Il cambiamento è perché io dovrei dichiarare di essere disponibile a rinunciare alla mia convenzione. Perché? No. Per quale motivo dovrei rinunciare alla mia convenzione? Perché dovrei rinunciare alla mia vita, alla mia cultura, alla mia esperienza per andare verso dove, scusa? Cosa è un attore che uno deve essere pronto a rinunciare a se stesso? Io posso dire che posso fare conoscenza, posso fare esperienza, ma non do per scontato che deva rinunciare a qualcosa. Perché la mia esperienza sarà sempre con me. Quello che io ho appreso sarà sempre con me. E di conseguenza io non portare mai del presupposto che devo dichiarare di essere disponibile a cosa. Ad essere processato, ad essere revisionato, ad adeguarmi ad un altro principio. Tutto quello che io dico sarà sempre con me. Non è che ci arriva la confessione e cancello tutto. Perché una persona commette degli errori, rimette questi errori, ma questi errori li ha commessi. Non c'è il colpo di spugna, non c'è la salvezza e la beatificazione. E di conseguenza, perché uno deve dire che sei disposto a rinunciare? Non si rinuncia a quello che si è. Non si rinuncia a quello che si è stato. Si cambia, certo. Ma il cambiamento non è perché io voglio cambiare. Il cambiamento viene quando sei pronto rispetto alla vita. Osservi, comprendi e fai conoscenza. E sai che devi fare esperienza. E sai che non è una verità. Uno non lo capisce. Cosa? Se non lo spiega uno non lo capisce. Se devi spiegare questo cambiamento. Cosa significa cambiare? Scusa. Vivere significa continuamente trasformarsi. Ma cambiare rispetto a cosa? Io non posso cambiare i miei sensi. Per cambiare qualcosa e se non... Ma cosa dovrei cambiare? Scusa. Ma cosa dovrei cambiare? Cioè io ho già i miei sensi. Mi vuoi dare un sesto senso, un settimo senso, un ottavo senso. Non so cosa devi cambiare. Cioè o dire sei pronto a rinunciare a quello? Tu mi chiedi un'altra cosa. Cioè tu fai passare al concetto che io dovrei rinunciare. Ti parlo di crescita personale anche. Ma perché cosa significa crescita personale? Cosa significa crescita personale? Possiamo assumere le tue idee nel momento in cui mi spieghi. Ma tu non devi assumere le mie idee. Tu devi avere le tue idee. Tu devi avere le tue esperienze. Io non posso trasmettere la mia esperienza. Io incontro le tue idee nel tono pacato. Nella chiusura totale che queste sono sbagliate non le incontrerò mai. Ma chi dice che sono sbagliate? Scusa ma tu sei il giudice che dice che le mie idee sono sbagliate? No, no, no. Io sento che magari tu dici che le mie idee sono sbagliate. Dove sono? Dai, dammi la dimostrazione. Non passando per il rispetto di me non potrò mai capire le tue idee. Ma io ti sto, scusa. Stiamo discutendo qua. Ti ho forse insultato, ti ho forse offeso, ti ho detto qualcosa. Stiamo discutendo di idee. E le idee si discutono. Di conseguenza se tu mi dici un'idea che a me non piace, non suona, io ti risponderò. Non sono tenuto a rispettare questa tua idea. Poi con te... Nella maniera in cui ti poni se le rispetti io potrò... Ma perché per discutere mi devo porre nella posizione che vuoi te? Cioè, quando si discute tu accetti tutto dell'interlocutore e dici l'interlocutore è così. Io imparo ad accettare le persone per quelle che sono, non perché come le vorrei. Se hai una pistola per annientare le mie idee, capisci che non posso incontrarlo. Ma scusa, ma stiamo discutendo o qualcuno ti sta minacciando? No, 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 guarda. Se sono in macchina, anzi, un trappo adesso ti devo lasciare perché ho un altro impegno. Va bene. Però è stata molto interessante la discussione. Bene. Ciao, ciao. Sì, ci sono certe cose che sono certe idee fisse, certi concetti che vengono proprio dati per acquisiti. In realtà imparate sempre a metterli in discussione. Sei pronto? A cazzaro. Cioè, difatti questo li fa da eco in un'altra maniera e disse appunto chiaramente. Quello che è un approccio che è fondamentale, che è proprio basilare, è sempre quello di imparare di non accettare in maniera critica qualsiasi cosa. Di fronte a qualsiasi formulazione di idee, di fronte a qualsiasi proposito, di fronte a qualsiasi cosa, si deve chiedere qual è il senso e il significato di questa cosa. Non si devono accettare regole che un interlocutore pone. Non si deve dire ma prima di discutere tu sei disposto a che. Perché le discussioni non si basano in questo. Quando qualcuno vi propone delle regole sue, significa chiaramente che non ha la sufficiente delle argomentazioni. In un dibattito di idee non c'è nessuna idea che deve essere rispettata. Sei pronto? Pronto? Purtroppo l'ascoltatore è caduto. Perciò questo è basilare. Perché proprio noi lavoriamo, noi siamo nell'esistenza e passiamo tramite l'esperienza. L'esperienza non può essere selettiva perché non siamo solo noi a decidere cosa vivremo, cosa affronteremo, cosa andremo a conoscere. Chi incontreremo. E quando incontriamo qualcosa dobbiamo capire per la sua natura e non dirgli adeguarti a un certo schematismo, a un certo principio o qualcosa. Sei pronto? Sono sempre i soliti discorsi, basta. E tu scusa, cambia radio. E ora vedete, questo ascoltatore è rimasto qui ad ascoltare le cose e ascolta la radio. Dice che sono i soliti discorsi, questo non so se sono i soliti discorsi, va bene, è una sua limitazione. Interviene per dire questo. Ma gli bastava un attimo di coraggio. Poteva benissimo girare. Noi abbiamo qui vicino alla nostra frequenza altre radio, Radio Maria poteva farlo. No, probabilmente se la Radio Maria non gli offre quegli stimoli, quelle capacità, quella situazione che su Radio Gama 5 trova. Che senso ha quando io sento un qualcosa che non mi piace in una radio di prendere, di spegnere la radio o di cambiare frequenza? Devi rimanere là. A questo punto significa che l'ascoltatore che interviene in questa maniera ha sicuramente uno scopo che quella masochistica di ascoltare e essere qui. E dopo lo viene a dire questo. Ma questo dà anche una dimostrazione proprio della povertà che possono essere le persone in certi momenti, in certe situazioni. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? 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 Sì? Pronto? Sì, pronto? Mi senti per radio o per telefono? Mi senti? Niente. Abbiamo dei problemi qua con i telefoni. Vabbè, i numeri sono semplici, i soliti sono 049 700 700 049 708 38. Io voglio dare un esempio concreto, molto semplice, di quale può essere il fatto di come si deve affrontare il rispetto alla realtà. Noi veniamo sempre e citiamo in positivo l'antica Grecia. Nell'antica Grecia c'era un concetto fondamentale che era... Sì, pronto? Sì, ciao, sono coordinato. Poi, puoi abbassare la radio. Sì, puoi abbassare. Adesso mi senti tu? Sì, ti senti. Paglio il telefono però perchè non si sento più. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Ciao. Ascolta, io l'ho più ascoltante. Buonasera a tutti. Sì. Mi ringrazio il tuo ultimo telefonato. Uno che prega il tema, cosa vuoi fare? Mi hai dato a utilizzare tutto? Sì. Sì. Tu ti dico, ascolta. E qua mi ho ascoltato e ti dico. E ora, e io? Poi non essere d'accordo e dobbiamo discutere. Però le persone devono rispettarle. Noi dobbiamo rispettare le idee. Sì. E mi sembra praticamente logico questo discorso qua. Mi senti a fare un po' di conto di idee. Mi permette di dire. Ah vabbè, perchè ora sono qui. E io torno. E questo fa. Oh, ragazzi, è un po' strano. Perchè, con l'unica risposta che mi stai, mi stai, mi stai, mi stai, mi stai, mi stai a utilizzare tutto e puoi parlare tutti. Non mi sembra, non mi sembra male parlare. No. Ma mi sembra stare qua e trovo il giro anche a me, come oggi. E questo è l'altro telefonato. Mi sembra stare qua e ho detto, ma ho sempre le solite cose. Eh, faccio una domanda. Quando quella va in casa cosa senti? Eh, robe 9 o sempre solite? 2 mila. Ah, no, aggiungo altro. Va bene. Ciao. Sì, beh, difatti l'escolatore ha sollevato effettivamente una cosa che è importante. Però quello che può essere al di là delle battute, tipo sempre le solite cose, e noi abbiamo detto Radio Gamma 5, non ha certo l'auditel da rispettare. Ha sempre la volontà di portare avanti dibatti, discussioni, idee. Sì, il problema è proprio che certe espressioni come lui ha detto, devo venire lì a bruciare tutto. Significa già qual è il tipo di approccio che si vuole dare al problema. Sei pronto? Sì, pronto? Sì. Ciao. Ascoltami. Dunque, intanto ti fanno sicuramente perché ti almeno ti rispondi al telefono. Scusami. Sì. Invece il tuo socio... Vabbè, lascia stare il discorso. Vabbè, state attento. Lascia stare il discorso. Scusami. Scusami. Aspetta che prendo il telefono. Sì, dimmi. Ma questo è un problema secondario. Eh. Se tu hai chiamato, hai chiamato per qualcos'altro. Come? Hai chiamato per qualcos'altro? Sì. Siamo perché... Cioè, io sono cattolico, Rob. Ascolto, sento un attimo perché delle volte mi piace sentire un attimo tutti quanti cosa che gli dice, cosa che mi dice, cosa che mi pensa, cosa che mi pensa. E mi... Cioè, mi rendo conto che... Cioè, posso considerarvi... Solo che ti, anche tu là che pensa come Dio. Insomma, da mia parte si dice che sia senza Dio come un poame, che devo più, no? Vabbè, scusa. Non voglio offendere a te, però... Beh, certo. Ho visto da capire che è scopo, è scopo del... Vedo tanta cattiveria prima di tutto. Dove cattiveria? Adesso le altre persone che... Assolutamente. No, dove la cattiveria? Dai, dove la cattiveria? Se sbaglio, ma... No, non so, che devo più. Vedo 180, ho chiamato di cattiveria, ho chiamato di... Dove? Perché? Perché ti diciamo le cose come stanno? No. Cioè... Cioè... Ma vedi, tu hai fatto già un'affermazione che tu sei senza Dio, senza i polli. Certo. Gli unici che hanno un Dio pazzo e criminali sono i cristiani. Cioè, sono d'accordo. Perciò i polli sono più intelligenti... Mi senti? Sì, perfetto. Ecco, dicevo, cioè... Guarda, se tu mi dici che i polli non hanno il Dio dei cristiani, sono contento che dimostra che soltanto il Dio dei cristiani può attecchire su certe menti poco intelligenti. E di conseguenza lo reputo un complimento perché significa che i polli dimostrano più intelligenza di tanta gente. Sì, beh, sicuramente sì. Sì. Perché sai, se uno dice... Sì, no, ma questo qua, quello che non riesco da capire... Poi, la cattiveia dov'è? Cioè, nel senso di dire... Io non sono cattivo. Cioè, nel senso che io non ho rancore. Perché sai, una cosa che io ho sempre detestato è sempre il risentimento. Già Nietzsche diceva quando devi affrontare qualcosa non affrontarlo mai con il risentimento. Anzi, il risentimento è una delle peggiori cose che il cristianesimo ha portato alla civiltà. E sono d'accordo con Nietzsche. Perciò le idee vanno affrontate ma non c'è risentimento, non c'è odio. Io, sinceramente, non mi piace agire per l'odio. Io mi sento molto greco e discuto sulle idee, discuto sui principi, discuto sulle visioni del mondo. Ma quando attacco un'idea non la faccio perché questa idea mi colpisce. Perché poi, vedi, l'idea del sentimento è tipica anche di una visione cristiana. Perché sei sempre davanti al crocifisso. Cioè, il povero Gesù colpito e trafitto, di conseguenza tu sei stato colpito dalla cosa. E dopo lei Gesù, lei Maometto... Sì, ma io non... Ma vedi, le idee... Anche perché, diciamo pure, che l'estremismo fa sempre mai, per carità. No, fa sempre mai. Però c'è gente che magari anche grazie all'estremismo, scusami... Sì. Sì, che dopo ho fatto tutte le ore di lavoro, sono andati un po' sempre. Però, ti dico che... Se hai aggrappato qualcosa, che devo più così... Va bene, ma non possiamo... Che non serve neanche a niente che non... Ma no, perché? Perché, scusa, c'è gente che in tutti quanti i campi, pur avendo grandi problemi, non si è certo aggrappato a questo. Perché... Eppure è così, come quelli che vanno dai psicologi o dai psicologi o... Sì, ma vedi, c'è il discorso, uno che va da un psicologo può benissimo ribellarsi alla terapia, alla cura o alla visione del psicologo. Sì. Uno che va in chiesa fa ben difficoltà a ribellarsi quando si è sottomesso, capito? Cioè, tu puoi venire... Una volta che dopo viene imbamburato la sua testa, viene imbamburato la sua testa e rubi. Sì, quando va in chiesa si corre questo rischio. Però, capito, in tutti gli altri... E' l'unico campo in cui si corre un rischio è quello di essere plagiato, di essere appunto manomesso dal punto di vista psichico, sono delle religioni monoteistiche. Certo. Perché, cioè, nel senso che nessuno mai considera un psicologo un dio, anzi potrà dire, non è un bravo medico. Sì. E di conseguenza significa che siamo in un campo ben diverso. E non si può dire alle persone aggrappate della prima cosa che capita, perché le persone nel campo delle idee non siamo dei nofroghi, non siamo della gente che ha la deriva e che deve sopravvivere. Perché se non c'è bisogno di sopravvivere, cioè anche nelle condizioni più difficili, le persone hanno sempre imparato a ragionare, a discutere. Però che c'è quei che non vedi va da soe, ma va in cerca di qualcuno o di qualcosa che lo dico. Sì, ma vedi, ma tu puoi dare anche, diciamo, ai poveri di spirito, puoi usare una frase biblica, possono avere una religione migliore che li faccia vivere in maniera diversa. Cioè, è che noi sul mercato abbiamo solo questa proposta, noi abbiamo soltanto questo prodotto, ma in realtà è perché è un prodotto monopolistico che ha cancellato gli altri, ma in realtà gli altri ci sono, capito? E allora potremmo dire anche queste persone che hanno bisogno di una visione fideistica, che vivono male. Perché le persone che vivono quel cristianesimo, con l'immagine di Cristo, vivono male. Possono avere delle religioni molto più sensibili alla loro dimensione in cui viverebbero meglio. Guarda, scusami, come quando si parla di politica o di sport, anche nel tuo caso qua, Dregio, anche dite che hai ragione. Perché negli scorsi che ti fai, logicamente, è un qualcosa di ragione che sei, da come che ha pensato. Sì, ma vedi, sul campo esistenziale non si tratta di parlare di ragione, l'importante è nell'idea è tirare fuori la propria qualità e la propria essenza. Certo. Voi voglio dire un attimino così, perché ieri da un bel tocchettino che vi ascolto, non sono mai intervenuto. Ascolto e basta. Sono uno che non mi piace piuttosto tefono, tefono. Uno mi rabbio perché non riuscimmo a capirsi che invece da tefonarti e da farti un brutto rumore, cosa è come che devo più, quindi mi ascolto e taso e sono a posto. Va bene. Però mi porta quella a dire che veramente, un attimino la cattiveria sento verso anche le persone. Ma io ti dico, ma a me la cattiveria non dispiace. Sì, va bene. Cioè nel senso... Però può essere anche pesante, fa uno che ascolta che magari... Perché? Perché? Ma io sono dell'avviso... ...radio gamma perché... Ma vedi... Sì, ma vedi, io non devo conquistare... Io voglio dirti che certe volte delle persone sono completamente bloccate e bisogna proprio dargli una botta sull'idee, parlo dal punto di vista delle idee, per metterle in movimento. E non puoi certo fare con l'accettare in maniera critica certe proposte, insomma. Sì, sì, sì. Sì, sì. Cioè sulle idee... Difatti c'era una frase che diceva in Italia abbiamo bisogno di teppismo intellettuale. E io mi sento teppista. Se tu dici che sono cattivo nelle idee, la cosa non mi dispiace. Ma... No, che siete sì cattivo. Sì. Non ho parlato... Non ho il suo problema, se tu mi dici che sono cattivo nelle idee, la cosa mi piace, anzi grazie. Lo prendo come complimento. Cercavo di essere più cattivo ancora. No, io parlo, io parlo di cattiveria personale o individuale o fisica. Allora, come ti ripeto il vostro argomento e dopo chiudo perché sennò guidavo tanti a Vodafone. E comunque tanta gente secondo me viene toccato troppo nei vostri discorsi. Meglio, meglio, meglio. E quindi per quello... Meglio. E più che uno sente troppo qua, più si incavo. Bene. La rabbia è già qualcosa. Ecco. Grazie. Comunque intanto mi ascolto anche se non so al 100% delle tue idee. So fa conto al 3%. Sì, ma non facciamo statistiche, non è... No, mi... Vabbè, non so tanto d'accordo con ti. Comunque mi ascolto perché a volte, insomma, è giusto anche sentire chi pensa diversamente. Grazie per essere intervenuto. Tutto qua. Bene. Ciao, grazie. Ciao Carlo. Sì, difatti il corso è questo qua. Quando siamo nel campo delle idee non c'è da problema di porsi in difficoltà di dire ma sei cattivo. Perché, e io devo ripeterlo e continuo a ripetere, l'importante è rispettare le persone e non le idee. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì. Ciao, sono Mauro. Ciao. Telefonavo così perché sto ascoltando della trasmissione. Non ho ben capito di quali argomenti tu stia trattando. Però mi fa sorridere un intervento di una persona, anzi mi fa proprio ridere, che ti ha detto prima, sono sempre le solite cose, ma io ho detto qua che cosa stai ascoltare. Vabbè è un problema suo dai. Quindi volevo un attimo capire di che cosa parli e di cosa stai trattando. Da quando è che stai ascoltando? Divaghi un po' tanto, quindi non riesco a focalizzare l'argomento. Beh, sai, potrebbe essere una caccia al tesoro. Come? Potrebbe essere una caccia al tesoro. Può darsi anche. Potrebbe anche essere un sistema per far attirare l'attenzione. Certo, certo. Ho sentito che ce l'hai sui cristiani. No, no, no. Assolutamente no. Ho sentito l'impressione che ho avuto. No, no, no. Vedete che qualcosa l'avevi afferrato però. Come? Qualcosa l'avevi afferrato. Mi senti adesso? Adesso mi sento meglio, sì. Vedi, no, il discorso che sto facendo è questo qua. È diverso. Qualcosa l'avevi già afferrato. Nel senso che si discuteva di religioni monoteistiche in maniera un attimino libera, senza nessun condizionamento, senza nessun rispetto per le idee. Ma questo non è avverso da quei cristiani. Ho sentito che chiamavi in causa quei tuoi compagnieri sonori che ti chiamano ogni tanto, no? Dando loro dei cristiani. Sì, beh, effettivamente poi lo sono, sì. Non sapendo chi sono è un po', diciamo, un'affermazione che lascia il tempo che trova. No, beh, sono loro stessi. Potrebbero essere anche di altra natura, insomma. Non è che devono per forza... No, no, tranquillo. Io ti faccio un'affermazione, se poi tu hai degli elementi per smentirmi, mi dai questi elementi, insomma. Non ho elementi per smentire. E allora mi confermi quello che io percepisco. Ecco, bene. Io ho solo un mio punto di vista e basta. Non so, con certezza che loro siano tutti i anni. Va beh, ti dico, purtroppo loro ce l'hanno detto che lo sono. E' un punto che riesci a suscitare abbastanza, come si dice, stimoli, stimoli da parte dei tuoi ascoltatori che chiedono subito per difendersi o per attaccare. Bene, ma l'importante è non essere mai piegati o grigi, ma essere sempre forti e svegli. Mi caso mai, mi spieghi un attimo per radio qual è praticamente l'argomento che tratti in questo orario. Ma, ti dico, io sono, diciamo, la trasmissione si chiama, parlo per radio o per telefono? Per radio, ti ascolto per radio. Va bene, perfetto, benissimo. Ciao, ciao, ciao. Ecco, l'ascoltatore puramente ha sentito involata la cosa. Beh, la trasmissione si chiama Magia Stragonaria Paganesimo e va in onda da undici anni da Radiocamma 5. Allora, diciamo che per dare uno schematismo molto, molto ampio, molto veloce, il monoteismo sono quelle religioni che pensano nel mondo creato e sottomesso alla volontà di un Dio creatore. Il Paganesimo dice che il mondo è sempre esistito, non è creato dal nulla, che ha una volontà insita e non c'è una sola volontà, ma che tutte quante le cose che sono presenti, che sono vive e anche le cose inanimate che sono attorno, rappresentano una volontà e sono un Dio. Noi diciamo che l'uomo non è al vertice di una cosa, ma che è una componente dell'universo, della realtà che c'è attorno, che non esiste un alto, un basso, che non esiste un assoluto distaccato da noi, ma che tutte quante le cose interagiscono tra loro, che noi siamo dentro un mondo di idee, di energia, che non esiste una verità, ma che esiste un'esperienza, una conoscenza individuale che ha un grande valore. Che non ci sono principi e comandamenti a cui adeguarsi, che non ci sono norme morali e che le regole che esistono, esistono non perché dettate in un libro sacro o nei comandamenti, ma perché la sensibilità delle persone che compongono una civiltà, una società, una cultura, stabiliscono delle regole che sono modificabili, adeguabili e che vivono con gli uomini. Questo è fondamentale, cioè capire che tutto quello che si può fare, tutto quello che si può creare, non deriva da una volontà superiore, non deriva da un profeta, da una rivelazione, da qualcosa a cui ci si deve adeguare e su cui si deve cercare una spiegazione. Ma tutto quello che esiste deve essere compreso e conosciuto e quello che è compreso e conosciuto deve essere trasmesso, discorso e affrontato. Siccome poi la vita è mutevole, cambia e si trasforma, si trasformano anche gli uomini, si trasforma la nostra sensibilità e si trasforma il mondo che c'è attorno. E noi dobbiamo sempre essere attenti a questa realtà che è in trasformazione, noi dobbiamo sempre valutare se le nostre azioni, se i nostri comportamenti, se il nostro modo di essere è un qualcosa che crea felicità o infelicità. La società non è costruita su un fondamento, dicevamo, giuridico, normativo che viene da un Dio, che ti dà un libro sacro, ma in ogni momento ogni suo componente contribuisce e può modificare questa realtà, questa situazione. E noi diciamo che queste divinità, questi dèi, sono presenti dappertutto, sono molteplici, anche l'uomo è un Dio. Di conseguenza quando si deve rivolgere, non c'è bisogno, verso il divino, non c'è bisogno né di incinocchiarsi, né di rivolgersi verso il cielo, né di fare dell'invocazione a un'entità che è una sfera totalmente estranea fuori da noi. Ma che in realtà il divino viene compreso tramite la contemplazione del mondo, tramite l'osservazione del mondo. Di conseguenza noi, essendo all'interno del mondo, abbiamo in ogni momento, in ogni circostanza, un legame con il divino. Questo divino non è fissato come fa i primi monoteisti nei cieli o in qualche paradiso. In realtà tutto il divino è qui attorno a noi ed è qui presente ed interagisce con noi. Perché è una cosa fondamentale che nel paganesimo il rapporto con il divino non è mediato, non è trasformato, non è incanalato. Cioè non esiste una struttura gerarchica, un sacerdote, un qualcuno che ti fa capire, che ti può comunicare, che ti può illustrare. Perché ogni individuo, ogni persona, ha questa capacità di percepire e di capire la realtà che gli ha attorno. Ha la possibilità e la capacità di capire che ci sono gli dei. Rimane un fatto che questi dei o queste divinità non c'è bisogno di portare fede, non c'è bisogno di credere. Perché se un individuo non è capace di riconoscerli, benissimo, le cose del mondo sono cose, sono cose inanimate, che non hanno profondità, che non hanno un'anima, che non hanno una volontà, rimarranno degli oggetti inanimati. Questo non crea nessun problema in quanto non essendoci principi assoluti o non essendoci dogmi o non essendoci nulla che chieda l'obbedienza o il credo. Perché io non potrò mai dire come pagano, credi in questa divinità, credi in Pan, credi in Giove. Se tu percepisci Pan, sai che esiste, sai che li puoi entrare in contatto e di conseguenza non hai bisogno di credere in lui, in quanto fa parte della tua esperienza. Se la tua esperienza non ha Pan, il problema non c'è. L'importante è che tu ti senta partecipi di questa comunità, che tu non ti senta superiore, detentore di una verità, di qualcosa di imporre agli altri. E se tu parte questo presupposto, che tu sei un elemento all'interno di una comunità, all'interno di un popolo, all'interno di una civiltà, non si pone il problema né del rispetto né delle regole, in quanto si è consci dell'importanza dell'altro, l'importanza sia di quello che fa, sia di quello che contribuisce. E soprattutto farai di tutto per impedire che si crei danno o si crei un qualcosa che vada contro la persona. Perché alla fine tutto quello che c'è non è il dover credere in un principio, ma è di avere fiducia, di avere energia, di avere riferimento nel comprendere che tutto quello che c'è davanti, le persone, hanno gli stessi diritti che noi abbiamo, come gli hanno tutte le cose che sono nel mondo. È difficile appunto sintetizzare il discorso del paganismo perché passa, dicevamo, tramite l'esperienza. E' rimasto un minuto, io ricordo che comunque chi vuole approfondire le trasmissioni che ormai da 11 anni partono da Radio Cama 5, in internet c'è l'archivio delle trasmissioni dal 2001 in poi, man mano verranno caricate anche le altre. Do l'indirizzo a internet che è www.federazionepagana.com.radio pagana. Lì c'è un archivio delle trasmissioni in MP3 scaricabile gratuitamente, c'è anche un piccolo motore di ricerca e c'è anche un piccolo sommario di ogni trasmissione. Bene, io vi saluto, vi lascio con Stefano, ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16.30 e lasciamo andare la pubblicità, un attimo, vediamo se trovo... Eccola qua, ciao a tutti!